di darmi la tuta no volevi di darmi la tuta e non non posso ciao amici prima di iniziare vi ricordo che lasciando un like un commento e soprattutto condividendo il video ai vostri amici su facebook potrete diventando nostri fedeli fan ricevere da addicted to games un fantastico regalo in questo modo aiuterete il canale a crescere ancora di più ci permetterete di offrirvi dei video sempre migliori e voi potrete ottenere nel tempo alcuni bellissimi regali come ad esempio che i promozionali per giochi steam e gadget di addicted to games creati da noi con i nostri autografi e così via quindi like commento e condividete vi lascio ora al video ciao ragazzi allora ciao ragazzi siamo con matteo su arma 3 e sai ragazzi dopo tre ore di tentativi siamo riusciti a trovarci veramente ragazzi che sono dietro di te no non sono io nessuno dietro anche allora un altro con le armi è una modo di sopravvivenza stile dei però senza zombie nella quale esponiamo mezzo al nulla con la tuta da carcerato e dobbiamo sopravvivere non trovare oggetti roba varia quindi dobbiamo trovarci la chiesa eh sì io alla chiesa sono dentro ora siamo sponati in una piccola città molto carino questo gioco devo dire ragazzi io me lo sono comprato sta in sconto a 17 euro eh sì bambi state andy che significa cosa è finita la nostra protezione nabi io ti dico solo che nella chiesa ho già trovato armi dico solo questo ma deve capitare a chiesa non la trovo aspetta ma non la trovo ci ho passato davanti ho trovato qualcosa già dentro sì ok vediamo un po di trovare degli oggetti luce chimica prendiamo qualche oggetto io prendo la bottiglia di plastica anche per me non mi fa prendere la pistola ok eccomi ad equipaggiare forse premi oh c'è un'arma vediamo ah è un dlc questo ho capito cioè serve dlc per equipaggiare eh sì mi dici che hai trovato eh trovato un casco un caricatore devo trovarci uno zaino assolutamente io ce l'ho uno zaino ma non mi dice che ho pochissimo tipo nello zaino guarda pacco da esterni marrone non è chiaro zero item io ho un ma che mi serve sto coso cosa ho zaino eh c'è non metto a portare più oggetti non mi fa trasportare niente sinceramente eh devi usarlo a parte nell'alimentare qui si può anche craftare roba basti eccetera come si fa vediamo provare a me devo capire e come si fa scusate ammetterlo non lo so cioè deve aumentarti la capienza ma ce l'hai già addosso il zaino eh sì io sì però non mi fa prendere questi qui perché mi fa mettere cilindro no non lo fa prendere anche a me arma premium eh no bisogna acquistarlo vedi è cavolata vabbè dai andiamo avanti andiamo avanti troviamo qualche cosa ne ho trovato un che cos'è questo la mitraglietta luce chimica prende la prende dove sei di qua di qua andiamo in questa casa vediamo che c'è oh michael c'è un ci sono cose vai vai io prendo sto zaino ci sono abiti dai cittadino vediamo come sono beh meglio di quelli da carcerato anche qua vediamo prendo io questo abiti da giornalista attenzione io vado a vedere di sopra che c'è mi sembro uno zingaro ok qua c'è questo gioco è pesantissimo a te come va va bene a voglia a me mi va tutta ultra 60 fps fissi madonna abbiamo dato te oh qua c'è una pistola vieni pure io ho trovato una pistola ho preso tutto l'ho presa già allora l'equipaggio io pure caricatore razzo luminoso ok mettiamo qua che cazzo fa oddio ok ora ho una pistola e un fucile dove sei? sei tu? eccoci oh come sei bello ma di sandali non gli stanno per niente madonna mia chi è quella di sandali? tu ce li hai bello ma che cosa guarda che animazione brutta si quella la fa anche così che cazzo è penosa è penosa l'animazione veramente brutta ma tu giochi in prima o in terza persona? terza persona gli oggetti ed altre cose per sparare prima dove sei? sono fuori sulla strada eh aspetta non ti andai da solo io dove sei? dove sei? dove sei? dove sei? controlliamo nelle case per vedere se ci sono ma prima hai incontrato un altro giocatore? prima si ma sparava a muzzoli era tipo bardato su sofia però eh e poi uno qui poco fa qua è vuoto si può anche entrare nelle case e prendere il post testo fa vedere che c'è per lui stiamo sempre le case sicurezza qui ci sono cose a terra che cos'è? ho un vector mini vector mi sa che qua non c'è la fame e la sete ho sbaglio non la vedo vediamo ok vediamo guardami 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 aspetta ah ecco consumiamo ah ecco ho consumato un po' di cibo ah vedi a sinistra c'è la fame e la sete faccio pena io te lo giuro se mi viene a vedere madonna posso spararti no attenzione no le stronze mi sparano io scavalco il recinto con la vo madonna oh c'è una c'è una ma no madonna ammazzato mi ha laggato il gioco in una maniera incredibile che brutta morte ci sono rimasto male io ci sono rimasto male io no dai perchè perchè che brutto ma dobbiamo aspettarmi che eh 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 ah no fai aspetta respawn ok respawn ok vai respawn dove respawniamo? è brutta morte due scemi sì perchè non ce l'aspettava non ce l'aspettavamo madonna dove andiamo ora amiche? andiamo a a salenco 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 vai io ok sono spawnato di nuovo senza niente eccoti sei tu questo girati sto venendo verso di te sei tu sei tu ok sei tu perchè fai così ok c'è la 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 allora vediamo che c'è qua ragazzi comunque ora armadrea è in sconto quindi se mi piace se mi piace è bravissimo poi ho abbassato un po' la grafica perchè se no allora di qua c'è la pista d'atterraggio andiamo magari c'è un aereo o qualcosa che fattura ma non è sembra la prosperity come corre voiture oddio vista d'atterraggio è una parola un po' un po' grande sembra una croce fatta mail vabbè ora vediamo che c'è sulla mappa c'è ora vediamo sono degli angara sulla sinistra un pedofilo tu madonna anche pure tu eh una cosa guarda quanto sono bello io guarda nnnn andiamo perchè ti sei buttato le cose a terra? non ti può vedere quella tuta ah se allora aspetti che la butto pure io l'ho buttato ma ti vedo ancora quella tuta devi mettere a sinistra terra no vabbè ma c'è l'acqua perchè te la sei buttata? c'è l'acqua e ci sono le cose per bere e mangiare eh vabbè pazienta farò a meno sembri Mauro spero per te che lui non senta mai sta cosa oddio ma il collo si gira in una maniera premi alt e gira il collo guarda come io lo so lo so infatti per vedere indietro madonna guarda 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 il pack guarda gliel'orecchia sinistra madonna fatto male lezzo lezzo ma perchè intanto mi scoppia nel gioco? oddio che cate su te madonna che pc mickey abbassa la ho fatto ho premuto qualche tasto abbassa la grafica se non ne ho parlato che tanto è oltre o no che c'entra basta che ci divertiamo allora vediamo qua che c'è vieni qui aspetta ho trovato qua vieni nel corridoio c'è arma premium ho trovato una rivista porno e ti fa vedere dove? qua 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 poi gliela diamo a Mauro dov'è? guarda guarda qua 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 aspetta ora com'è che si legge? voglio vedere io cerco qualcosa altro ma no che la terza edizione sta bella mi piace ho arredato molto bene il posto devo dire buona ho trovato un'altra ma è premium è premium mickey premium no l'ho preso ma sei giù tu? perché non mi prende più oggetti? è premium ti sto dico ah qua c'è c'è la un'altra rivista è numero uno vado a tre riviste tutte per Mauro quelle vanno bene ok io sono armato io no che cazzo spavano quanto? no ma ammazzare mi vuoi ammazzare oh fermo lo so lo so io controllo se viene qualcuno si ma no no non c'è niente in sto cazzo posto di merda ok sono uscito eh da dove? dalla porta la sotto vabbè guarda che non mi aspetta ma guarda si è poca qua 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 tipo nel muro stavo volando per un secondo volavo 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 oh qua c'è oh tipo una piattaforma di atterraggio per elicotteri è sembra un campo di basket sinceramente forse questo è un campo da basket della sicilia senza offendere nessuno andiamo di là andiamo ti offendo solo perché c'è muro pagano perché l'anno mi piace nell'anno mauro pagano lo prende tu ahahah bravo un accetto aspetta ma fai prendere a me almeno un'arma le presa ma si ma la cartigianica che serve allora guarda vieni qua vieni con me ma stai riviste porno dappertutto stanno vieni qua vieni vieni taglia l'albero questo qui è un gioco per mauro pagano guarda vai taglia 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 guarda 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 come lo taglia oh 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 è tagliato madonna ha fatto male sto gioco ragazzi diciamo che non è nato per questo eh prendi il legno lo puoi prendere come si fa non provo a prendere non provo a prendere prova a tagliare di nuovo vedi guarda prova a tagliare la legna vedi ma è qui guarda a terra ah wood log madonna ci ho fatto male allora dovresti poter prendere uno e basta uno posso produrre vedi prova a captare qualcosa vedi come si craft primi sopra il legno devi avere una lista di crafting primi due volte sul legno no non mi dice niente dai a me dai a me dai a me ma c'è tanto qui a terra non vedi no non c'è niente non trova niente per terra madonna che gioco brutto vieni la morte è brutta meglio altri slide qui a terra lo vedi sto ceppo di darmi la tuta no no volevi di darmi la tuta no non posso mi vuoi bene non parla più perché è un televisore nella ok oh perfetto ora posso raccogliere oggetti suicidati ti sparo nel culo suicidati non ci possiamo ritrovare vediamo ehm la costruisci però non fa costruire no voglio provare a tagliare io la legna si però devi uscire cioè aspetta mi ha ucciso quindi non so come tornare a dire oddio che cosa bella che cos'è niente hai visto l'animazione vabbè amici di questo era arma exile e vabbè diciamo che potrebbe essere meglio comunque bisogna analizzarla meglio qua c'è il corpo ammazzato di di Matteo bene amici lasciate like commenti e condividete ciao belli ciao ragazzi un like su ciao 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 ciao